Facciamo un nodo alla violenza. Questo è il titolo del corteo andato in scena stamani a Santa Maria Vico. Protagonisti, tanti studenti e professori per attestare la propria solidarietà alla docente ferita al volto da uno studente dell'Istituto Santa Mariano. Presente, oltre alle cariche istituzionali e alle associazioni del territorio, anche il marito della professoressa Di Blasio. Ha avuto ancora di più un attestato di, oltre che di stima, di vicinanza, di solidarietà, ma di affetto. Perché lei in questo momento, anche se non è presente, idealmente, ripeto, è vicina a ognuno dei partecipanti, sia con un abbraccio ideale, ma sia con il cuore. Perché nella sua funzione di educatrice, mia moglie, ma più che di educatrice, mia moglie si sente maestra, come più volte hanno detto dei suoi ex alunni, perché ha avuto attestati di ex alunni che lei ha avuto anche 30 anni fa, che ora sono diventati uomini, uomini adulti, maturi, e che ricoprono anche ruoli abbastanza importanti nella società. C'è un suo alunno che si è fatto sentire dalla California e l'ha chiamata con una semplicità e una bontà maestra. E lei sarà sempre nel mio cuore, è la mia maestra. Questo è il Majorana. Come commento prendete le parole dei ragazzi. Penso che loro, più di tutti, possano rappresentare il senso della nostra scuola. E in aggiunta posso dire che tutti questi istituti che sono presenti, tutti i presidi, costituiscono la testimonianza che non è stato colpito solo in Majorana, è stata colpita la scuola. E la scuola, quella buona, ha voluto essere presente in piazza. Oggi è un giorno particolare, importante. Noi stiamo a fianco agli alunni, che hanno assunto una posizione dal primo giorno netta e chiara, e quindi a loro va il nostro plavoso. Oggi questa marcia del silenzio vuole ancora dimostrare la vicinanza dell'amministrazione del sindaco all'istituto, ai ragazzi, ma vuole anche dire che dobbiamo chiudere questa parentesi che è stata brutta, dobbiamo aprire una pagina nuova, dobbiamo voltare pagine e guardare al futuro con positività.